C'è la paura, c'è mia mamma che non voglio che la prendesse, dunque sto molto attento anche io, di stare il più possibile a casa, secondo me è molto importante per tutti di stare a casa. Con meno gran premi è disposto a ridursi l'ingaggio? Certamente, secondo me è ovviamente normale farlo in una situazione così. Questa foto che vedo alle vostre spalle è un artista che mi piace tanto, che fotografava delle homeless people, non lo so, a una forza questa foto che mi piace tanto, è dunque ho deciso di metterla qua. La Formula 1 ripartirà forse a luglio, solo se ci saranno le condizioni. Da quando sono nato, o poco dopo, da quando ho 4 anni è quello che voglio fare, dunque non farlo adesso per abbastanza tanti mesi è una cosa difficile.